Questa è correlativa al discorso della riflessione scolastica, che è pervenuta a me come singola persona, alla quale io personalmente, in quanto interpellato, ho dato anche una risposta che è stata condizionata ed è pervenuta alle mamme che lo avevano sottoscritto. Poi, dopo di che, questa esigenza qui è stata portata in consiglio dai consiglieri cocomunali e per cui ne discutiamo l'interpellanza e il servizio mensa scolastica. I sottoscritti consiglieri comunali Gabriele Avigliani, Giuseppe Meola e Salvatore Latoura ha premesso che a seguito dettagli ceventi a lunedì del 1 ottobre 2009 il Comune di Scala di Perfetto ha tirato verso la Banca Agricola Popolare e Corriere Musso un conto corrente per raccogliere i fondi destinati all'iniziativa di solidarietà verso la popolazione colpita che nel dicembre del 2009 la CONAD ha contribuito a suddetto conto destinando 50.000 euro di cui 10.000 per ripristinare le dati locali di vita alla versione scolastica e ancora oggi a distanza di oltre due anni non è stato attivato un importante servizio che anche quest'anno i genitori stanno pagando interamente la spesa necessaria per la fornitura dei pasti e bambini che il dato del 16 febbraio 2012 protocollo numero 1300 i rappresentanti dei genitori della scuola media dell'infanzia e della scuola primaria dei domani di Maria hanno inviato una missiva al Presidente del Consiglio Comunale Guido di Blasi e a tutti i consiglieri comunali di Scaletta Zanclea in cui si chiede di sottoporre all'attenzione del civico con un sesso la problematica relativa alla mancata attivazione del servizio di mensa scolastica ma che solo nella giornata di martedì 6 marzo e solo dopo la segnalazione dei consiglieri di minoranza il documento è stato notificato a tutti i componenti del Consiglio tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Sindaco di rilazionare in merito alla mancata attivazione del servizio di mensa scolastica gli scriventi del nostro Presidente del Consiglio Comunale visto il dato con cui hanno ricevuto la missiva inviata dai rappresentanti e dai genitori di inserire il punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo alle ore 18.30 in merito a questo particolare mi giova a premere alcune precisazioni perché il sottoscritto ha risposto a questa missiva in quanto non è rinvizzata a me per conoscenza dove lo trasmette lo struttivo i consiglieri comunali doveva essere una missiva che è rinvizzata a 4 soggetti il Presidente del Consiglio Comunale, il Capogruppo di Maggioranza, il Capogruppo di Opposizione e a tutti i consiglieri e il Consiglio Comunale di Scarletta Zempio quindi non era il mio obbligo di andare No ma infatti non c'è stata una telefonata con la Secretaria che diceva mai il Presidente come ci ha inviato questo quindi? No come mai non c'è stata notificata? Io personalmente non è che la devo notificare ecco io perché io ero una persona interessata allo stesso livello non è basta aver capito questo, non è questo il Presidente del Consiglio Comunale No 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 infatti io mi sono lamentato ovviamente c'era una legge utilizzata a tutti i consiglieri perché io ho preso l'altro che c'era una di una cosa utilizzata a me di cui io ho risposto Dopodiché non l'avevo portata all'attenzione del Consiglio Comunale e spiego anche le motivazioni non cerco perché non penso che sia giusto che il Consiglio Comunale le tratta No 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 le spiego subito perché sembrerebbe dico che si è portato in Consiglio Comunale e io non lo volevo portare in Consiglio Comunale No questo non lo facciamo La missiva che ho indirizzata ai genitori facendo seguito alla comunicazione a firma di alcuni genitori e di alunni che in atto frequentano la scuola elementare e la scuola dell'infanzia dell'interoggetto la riflessione scolastica da data del 30 gennaio 2011 e presentata per rimanere a protocollo comunale in data sensibilità comunale si recisa che il Consiglio Comunale da sempre vicino alle stanze e alle esigenze dei cittadini di Scaletta nella seduta del 4 luglio 2010 con senso di responsabilità e condivisione delle esigenze della comunità scalettese specie di guerra colpita dalla Lugione ha deliberato l'utilizzo delle somme dal compro per Lugione prevedendo l'impiego della somma di Euro 10.000 a favore della mensa scolastica Giovo attesi ricordare che per la complessiva programmazione ed anche per tale deliberato i consiglieri comunali sono stati oggetto di indagini giudiziarie per il reato di abuso d'ufficio e l'appropriazione coindebita vicenda che ad oggi ha visto la richiesta di archiviazione del sostituto prefuratore per assenza di dolo da parte degli amministratori ciò permesso lo scrivente si è fatto portavoce alla distanza dei chiedenti per sé sindaco l'assessore in ufficio competente i quali hanno risposto che è initimere la fornitura delle attrezzature per la cucina della mensa per cui non appena ottimata la fornitura e residoni locali e prefettori sarà cura dell'amministrazione attivare il servizio mensa scolastica pertanto presa alto e costatato che il problema dovrebbe risolversi a breve ritengo che per il momento non vi sia l'urgenza della trattazione in consiglio tuttavia se la soluzione della vicenda dovesse prolungarsi oltremoto investirò il consiglio della problematica al fine di pervenire a delle donne soluzioni successivamente a questa missiva personalmente ho constatato che grazie con l'intervento degli operai del comune superato il problema con i rigidi del fuoco che era un problema più grosso della fornitura delle attrezzature quando c'era un problema di gas come doveva essere dislocato si è in pratica pervenuti alla sistemazione del sindaco per cui io parlo l'assessore parlo il sindaco nel senso per precisare quella posizione prego si, a seguito del problema dei vicini ci sono indicato il luogo privato per posizionare la tomba che non iniziano a uscire con i bagni di smestri vicini alla uscina comunque ci hanno detto come rendere il donio e il posto però c'è un problema di foglio cioè la civiltà è in grado quindi è detto che la prima persona è in situazione delle vie di spartimenti la zona mensa, la zona del territorio, la scuola il problema fondamentale è ciò che la situazione è l'agibilità che purtroppo manca da questo punto di vista stiamo cercando di muoverci nel senso che l'incarico dei professionisti per fare un'attività per vedere di cadastrare il primo o di lettura delle cose fondamentali per avere l'agibilità e non per la cadastrazione ed edifici il primo di cadastrazione quindi stiamo in tempi più brevi possibili per poter superare il risultato di eroscavo non per l'agibilità perché senza l'agibilità comunque non possiamo aiutare l'agibilità perché per il resto per quanto riguarda le attrezzature e le istituzioni siamo già quasi da fine quindi non manca più niente sotto però stiamo rimasti infermi a causa del problema comunque la nostra volontà è di sistemare il più brevi possibile insomma credo non è una questione dell'agibilità è importante per carità anche se diciamo quest'amministrazione visti i precedenti visti i precedenti lei ha vede? c'è niente da qui? e si da piangere avremo modo di parlarne poi c'è l'agibilità che è una cosa fondamentale la fornitura è stata completata c'è il fatto che comunque i locali comunali non abbiano l'agibilità non siano neanche i catastali quindi è un tipo non è uno solo a questa cosa lo so, nessuno dei locali è catastali volevo dire soltanto da anni si, 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 l'hanno pensato come ha detto giustamente l'assessore la fornitura è stata completata il consigliere lei a parte molto strano non sa dire altro lei è veramente un consigliere opposizione modesta lei è molto strano non sa dire altro non è per nulla propositivo dicevo del catastale e lo garantisco comunque tra l'altro la fornitura è stata completata con questi 10.000 euro donate dalla Comandio quindi abbiamo tutto tutto apparato dalla cucina eccetera volevo evidenziare anche il problema della separazione dei locali perché lì c'è un'aula scolastica e quindi il medico scolastico e il vigile del fuoco ci hanno detto giustamente che bisogna separare questi locali quindi dovremmo anche fare questo un separé tra questo locale e la mezza dopodiché a parte l'agibilità sarà pronto è un problema della catastazione penso che sia una cosa molto lunga noi pensiamo lo spieghiamo che entro l'anno solare di attivarla questa messa perché ogni anno inizia da sempre a ottobre la messa quindi si accorta adesso dopo 10 anni la prestazione ma da 10 anni fa l'assessore non capacità di realizzare l'opera e non pensare al come siamo tradizionalisti e abbiamo continuato noi vorremmo eliminare questa consuetudine vorremmo eliminare tempi si allungano di brutto siamo pronti con il riguardo no 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 entro l'anno solare contiamo di riaprire e prendiamo per buono quello che finisce entro l'anno solare solare certo via gennaio si fa ha anche se dentro che noi non stiamo non ma sono solare ma sono solare